A Venezia operazione alto impatto nella stazione ferroviaria sia nella terraferma che nel territorio lagunare. Un'operazione inserita a livello locale ma che si è svolta in tutte le stazioni italiane. Obiettivo il contrasto in generale di tutte le attività illecite ma ponendo particolare attenzione alla prevenzione di possibili azioni terroristiche o eversive. In questo contesto è stata data esecuzione ad un'attività straordinaria di controllo di viaggiatori e bagagli sia all'interno della stazione Venezia Mestre che nelle aree immediatamente adiacenti, sempre molto interessate dal flusso di viaggiatori. Impegnato personale del compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto che operando in sinergia con il reparto prevenzione crimine e il nucleo dei cinofili di Padova ha attuato una serie di mirati controlli su passeggeri e bagagli. 24 complessivamente gli agenti e operanti, 201 le persone sottoposto a controlli di identità e 12 i bagagli controllati. Due persone che si sono rese responsabili rispettivamente di violazioni alla legge sull'immigrazione e alle disposizioni a tutela della sicurezza della città e del decoro urbano sono state denunciate in stato di libertà. Le attività sono state ottimizzate grazie all'utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale di documenti elettronici ed estese a bagagli, anche con il ricorso alle unità cinofile e ai metal detector.